Linea di soccorso del DUP, vuole segnalare un incidente di natura bioterroristica? C'è un bioterrorista in libertà che sta esprimendo il suo grande genio, cioè sta profanando uno dei vostri cartelloni. Temo che ormai sia una moda, ce ne occupiamo all'istante. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!